buongiorno amore mio ciao buongiorno gattino ruolo bianco un po corroncione buongiorno gattabetta buongiorno anche lei è super affettuosa anche se noi la chiamiamo la gatta cattiva lei è super affettuosa ciao max ciao tutti a salutare tutti a salutare buongiorno 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 sì sì dai bacini alla videocamera buongiorno all'appello manca solo gatta stellina che come al solito sta sulla sua sedia preferita a dormire ciao gatta stellina ogni tanto viene fuori chiede le coccole ma per adesso vuole stare lì evidentemente ma sì ciao ciao max ciao max se sentite un rumore di sottofondo ragazzi è il robottino che come ogni mattina è acceso e se ne va in giro per la casa ad aspirare peli capelli eccetera eccetera quindi grazie al cielo che c'è colazione di oggi yogurt magro alla fragola con una banana e semi di quinoa soffiata buon appetito se sentite un rumore in sottofondo oltre al robot è perché ho dovuto spalancare le finestre ragazzi perché ieri abbiamo cucinato pesce ieri sera e nonostante io abbia spalancato le finestre per un bel po' di tempo ieri sera e stamattina puzza ancora di pesce la casa il pesce è tremendo ogni volta bisogna veramente arieggiare tantissimo tantissimo prima che se ne vada gatto d'amore mio è sempre così ragazzi ogni mattina appena mi sveglio gatto d'amore non mi molla gli ho dato mille baci l'ho abbracciato ma lui non mi molla probabilmente il gatto più affettuoso del mondo amore mio ma si ma si ma si a parte che gli piace tantissimo anche lo yogurt quindi probabilmente vorrebbe un po' del mio yogurt però non gli fa tanto bene quindi cerco di non darglielo amore mio comunque oggi è giornata abbastanza tranquilla ragazzi in realtà ho filmato due video ieri ed ho fatto un montaggio che devo fare oggi l'ho fatto ieri perché vorrei avere più tempo libero oggi in modo da poi vabbè fuori c'è un casino arrivato nuovo pacchetto scusatemi per l'interruzione ma dovete sapere che casa mia è un via vai di corrieri e pacchi inimitabile veramente momento trucco come al solito siete posizionati sul mio mobiletto dei trucchi qua davanti gatto d'amore in background che fa la nanna e allora volevo tra l'altro ringraziarvi un sacco per tutti i consigli che mi avete dato riguardo alla connessione wifi c'erano delle cose però che ho dimenticato di menzionare uno non è il segnale che diventa debole dall'altra parte della casa nel senso che la connessione si perde anche se metto letteralmente il computer a due centimetri dal modem non cambia nulla si disconnette costantemente e numero due non posso collegare il cavo lan direttamente al computer per vedere come va la rete perché il mio computer non ha l'accesso il macbook pro una grande stupidaggine secondo me che non abbiano fatto l'accesso alla lan però non lo posso collegare con il cavo posso soltanto collegarmi in wifi e visto che questa cosa mi succede anche quando il mio computer è letteralmente appiccicato al modem non saprei appunto cosa fare probabilmente devo contattare la team e spiegargli la situazione magari è un problema appunto del modem nel senso che magari è difettoso altre cose onestamente perché molti di voi mi hanno detto nicole comprati l'extender in modo che il segnale ti arrivi in tutta la casa no già ce l'ho in realtà ma non è assolutamente questo il problema il segnale si sconnette costantemente anche se il computer è appiccicato letteralmente al modem che tra l'altro succede un po' a giornate la cosa è molto strana a volte si disconnette completamente cioè costantemente anche se il computer è appiccicato al modem cioè lì vicinissimo a volte non succede nemmeno quando il computer è dall'altra parte della casa ed è collegato all'extender quindi non so nemmeno io onestamente come mai forse può dipendere lo chiedo a voi che ve ne intendete può dipendere dal fatto che magari c'è tanta gente connessa perché noto che di notte si sconnette di meno rispetto a quanto si sconnette di giorno quindi potrebbe essere che quando c'è tanta gente connessa la connessione si stacca mentre se ci sono poche persone connesse ad internet in quel momento sulla rete team presumo duri di più e non si sconnetta non lo so questa cosa l'ho notata che poi appunto magari io non me ne intendo quindi non lo so però potrebbe essere perché effettivamente si disconnette di meno di notte ho visto che comunque questa cosa succede a molti di voi almeno la cosa mi fa sentire meno sola e alcuni mi hanno detto che gli capitava con la team e l'unica cosa che hanno potuto fare per risolvere è stato cambiare operatore che mi dispiace perché in realtà mi trovo bene come velocità cioè io con la fibra team non ho nessun tipo di problema appunto per quanto riguarda la velocità dei dati in upload che poi quello che mi interessa di più per il caricamento dei dei video dei miei video su youtube naturalmente e altri invece mi hanno detto che hanno risolto chiamando la team che gli ha poi cambiato un modem e altri invece mi hanno detto che pur chiamando la team non hanno mai risolto nulla da notare tra l'altro che io ho una rete team business quindi non so se possa centrare o meno ma magari se volete darmi dei consigli questa cosa può avere una non lo so un'importanza e non lo so comunque penso che per qualcuno che ha una rete business evidentemente gli serve per lavoro e quindi la connessione dovrebbe essere ancora più come dire più più sicura e più stabile rispetto magari a qualcuno che non lo usa per lavoro ma non saprei non saprei e devo dire però devo dire che molto stranamente da quando sono passata team business mi capita sta cosa prima quando avevo team insomma privato normale non mi capitava o comunque non mi capitava così di frequente come mi capita adesso e dire che comunque già quando abitavo in questa casa il problema non lo avevo quindi non può essere una cosa di zona visto che comunque quando abitavo qui già prima non mi succedeva però prima avevo appunto team privato adesso ho team business non so proverò a chiamarli a spiegare la situazione mi avete detto anche che il tecnico quando viene è a pagamento cosa che ritengo un po strana perché voglio dire cioè se la rete non funziona a causa vostra è un po assurdo che io debba pagare l'intervento però magari non è così non lo so devo verificare se è vero oppure no perché con team business appunto diverse cioè alcune cose cambiano quindi devo un attimino devo un attimino vedere però è una cosa veramente veramente super fastidiosa ma vi ringrazio davvero tantissimo dei tanti tanti consigli che mi avete dato continuate a farlo vi prego perché non so veramente più come risolverla questa cosa e comincio a pensare che l'unica cosa che io possa fare ormai è parlarne con loro e vedere se riescono loro a risolverla questa cosa che il mio trucco in questo momento è un po assurdo ma non vi preoccupate che adesso lo stimiamo sto usando sempre la naked honey di urmandi che mi sta piacendo tantissimo l'unico colore che secondo me un po manca in queste palette è un marroncino scuro perché sono tutti colori molto chiari questo glitterato non è scuro anche se sembra è l'unico colore scuro è questo che è un po più un prugna mentre io vorrei un marroncino scuro e vado ad usarlo da questa palette di too face che è tipo vi dicevo delle è tipo dell'anteguerra no è tipo di due o tre anni fa e però almeno ha un marroncino appunto scuro ultimamente sono un po ritornata avrete notato sui miei classici smoky marrone eccetera ma più che altro ho notato che in estate mi piace un trucco un pochino più leggero in inverno invece mi piace un pochino andarci giù non pesante perché non ho mai trucchi pesantissimi però un pochino più che sia un pochino più visibile rispetto a quello che magari faccio in estate anche perché io il caldo lo soffro moltissimo ragazzi visto che mi apro sempre con voi ragazzi e per me siete la mia la mia famiglia virtuale siete degli amici che appunto dopo tutti gli alti e bassi in questi dieci anni della mia vita voi ci siete sempre stati e ci siete per me e quindi questo è molto importante e non voglio neanche nascondervi il fatto che è un periodo un pochino difficile per me nel senso che non so nemmeno bene come spiegarlo però a volte mi sento un po triste e a volte sì ho giornate un po no e oggi è una di quelle giornate e sembra che niente riesca a risollevarmi il morale e io lo so voi mi vedete sempre super positiva ma perché a me piace aiutare gli altri nel senso mi piace tirare su il morale agli altri e mi piace sapere che le persone che mi stanno attorno e voi perché voi siete per me delle persone che mi stanno attorno che siamo a contatto ogni giorno ci ritengo che stiano bene però per quanto mi riguarda non sto tanto attenta a me stessa e poi irrimediabilmente finisco per sentirmi un po triste un po scoraggiata a volte o comunque non felice come vorrei essere che è un discorso veramente difficile da capire ma per me è così specialmente nell'ultimo periodo e quindi non ve lo voglio nascondere perché sono degli errori che già ho fatto in passato quando magari vi nascondevo le giornate no vi nascondevo i periodi no eccetera ed è anche questo un periodo in cui vi dico non ci sono giornate in cui sto bene e sono più felice poi ci sono giornate in cui decisamente mi sento più triste più giù di morale e e questa è una giornata decisamente in cui non mi sento proprio al top ma penso che capiti un po a tutti quelle giornate in cui non non c'è nemmeno un motivo in particolare ma non stai benissimo non non ti senti al tuo top o magari ti vedi brutta ok ci sono ci sono queste giornate solo che nell'ultimo periodo ne sto avendo diverse e probabilmente dai video non ve ne accorgete o forse sì non lo so perché sono anche molto brava a nasconderlo credo anche perché nei video voglio voglio sempre dare messaggi positivi e dare allegria a chi mi segue però è anche giusto secondo me da una parte cioè so che chi guarda i miei video vuole un momento di svago di positività perché la vita è già difficile di per sé non vogliamo aprire youtube e vedere e sentire problemi di altre persone quindi mi dispiace e non voglio mai parlare dei miei problemi o di come mi sento quando non sto benissimo proprio perché appunto voglio regalare un po di felicità e un po di minuti in leggerezza in allegria che mi segue però secondo me è anche importante tenervi vicini alla mia vita e e farvi sapere come sto davvero perché non voglio che il mio canale sia solo intrattenimento voglio che sappiate effettivamente come come sto come mi sento e voglio condividere con voi non solo le cose belle ma anche le cose brutte o comunque anche le giornate quando sono delle giornate appunto dei periodi particolarmente difficili e in cui non mi sento proprio benissimo quindi questo è un po il il mood di oggi purtroppo il mood di alcune giornate non voglio non voglio nascondervelo questo non significa che se mi vedete felice ed allegra io non lo sia davvero ma ci sono però anche dei momenti che non sono felici ed allegri e non voglio più nascondervi lì come magari facevo facevo in passato comunque trucco abbiamo così finito faccio mascara dall'altra parte sopracciglia e rossetto ah e volevo anche ringraziarvi tantissimi perché nelle stories ho detto che sto finendo questo rossetto liquido di glossip milano colore 02 soft cashmere è uno dei miei rossetti liquidi opachi preferiti spesso mi chiedete che colore indossi e molto spesso è lui e mi avete detto in tantissimi che posso trovarlo da bottega verde quindi vi ringrazio andrò sicuramente a controllare perché lo amo lo amo e vorrei anche provarne altri di colori di questa linea in realtà quindi non so se sia un range non posso non vado mai da bottega verde ma io non vado mai nei negozi proprio faccio solo shopping online quindi sarebbe è carino vorrei vedere un po' quali altre colorazioni hanno perché sono favolosi provateli trucco fatto ragazzi smoky eye ho aggiunto un po' appunto del marroncino della palette Too Faced alla Naked Honey di Urban Decay non sono tanto soddisfatta della base oggi perché si vedono un po' i segni del fondotinta non sono sicura se in videocamera riuscite a vederlo ma dal vivo da vicino lo vedo e poi come rossetto invece oggi ho messo quello di qui c'è un casino ragazzi non fateci caso ho messo questo di jeffree star che tra tutti i rossetti liquidi opachi che ho preso da jeffree star è il mio preferito decisamente ed è can't relate forse qua riuscite a leggerlo can't relate ed è nonostante sembri super glitterato in realtà è un colore opaco molto molto bello oggi sto indossando la mia felpa rosa da abbinare alla borsa rosa che avete visto finalmente posso usarla oggi finalmente indosserò la chanellina rosa e domani invece voglio indossare quella tutta pelusciosa invece nuova della boutique chanel quella che indosso oggi come sapete è vintage eccola qui questa bellezza la via nuova chanellina rosa la adoro ragazzi la adoro e notate che è praticamente dello stesso colore veramente di questa felpa è stupenda sono super super felice di averla presa ragazzi e oggi è la primissima volta che la metto wow sono contenta questa è veramente bellissima outfit di oggi ragazzi ho legato i capelli perché oggi sono un po osceni nonostante io abbia provato a fettinar di bene con shampoo secco spazzola eccetera non volevano stare quindi scrunchie e via e appunto ho la mia felpa che ho preso su asos se non sbaglio questo teddy coat mi chiedete in tantissimi dove l'ho preso ragazzi l'ho preso da naked fashion si scrive n a k d e l'ho preso online e però l'ho preso l'anno scorso quindi non so se si trova ancora ma lo trovate secondo me anche su asos tipo su zalando insomma è super famoso ma penso che su naked fashion si trovi ancora magari sarà un modello non proprio uguale ma secondo me lo trovate ancora e appunto nuova chanellina di cui sono follemente innamorata vi avevo detto che mi mancava una chanelle nella mia collezione ma in realtà una chanelle rosa intendo in realtà però adesso vi faccio vedere qui è completamente buio ok in realtà però avevo sia questa che quella di cui vi parlavo rosa in pelle lucida che ovviamente questa che è più fucsia però quindi volevo una rosa cipria poi ho la boy che è più un nude cammello secondo me mentre appunto di questo colore ho la san loran ma questa è un hardware argentato e poi come tipologia di borse è completamente diversa quindi sì la mia collezione è sempre più gigantesca e qui non ci sta più niente ragazzi comunque super contenta di questo acquisto poi per quanto riguarda l'outfit vi faccio vedere questi sono dei leggings effetto pelle e anche questi li ho presi su asos e poi ho questi scarponcini ragazzi che sono super super comodi e caldi anche questi li ho presi su asos e non li ho pagati nemmeno tantissimo quanto sono carine le cosine della thun specialmente quelle natalizie mi fanno impazzire troppo troppo carini e poi amo vedere le vetrine natalizie in questo periodo vabbè che è un po' presto però adoro ok sono tornata a casa e sono stata fuori più del previsto nel frattempo volevo farvi vedere come ho sistemato le nuove borse eccola qui tra le mie jumbo che adesso sono sei eccole qua c'è quella beige quella fucsia rossa nera bianca e adesso c'è anche lei questa meraviglia tutta peluciosa e non so più dove mettere le borse la giovanchi e lì e lassù ho le altre più grandi chanel celine e un'altra diore e invece qua sopra sistemo la borsa nuova quella rosa che però oggi sto indossando e queste sono le cosine che ci metto all'interno per farle mantenere un po meglio la forma anche se ho scoperto da poco che esistono degli inserti per le borse da mettere appunto al loro interno in modo che cioè sapevo che esistessero però ultimamente ne ho sentito parlare un sacco ed ho in mente un brand in particolare che vorrei provare sono appunto degli inserti rigidi che si mettono all'interno delle borse in modo che non perdano la loro forma nel tempo perché appunto queste sono borse che ti durano una vita quindi dopo 20 anni irrimediabilmente un pochino possono cedere e questi inserti all'interno appunto fanno sì che la forma si mantenga un po meglio quindi devo ricercare di nuovo il brand perché ne ho sentito parlare un sacco negli ultimi giorni ma non mi sono segnata il brand e ho visto però che la differenza negli anni dopo aver preso questa vintage ho visto davvero che negli anni la differenza si vede e quindi secondo me è importante appunto far sì che rimangano della forma originale e quindi perfetta gattabetta salve ciao ciao patatina ciao sei bellissima sei bellissima sei bellissima ciao patatina gatto max gatto max gatto max lei ha una fissa con le scarpe dovete sapere lei e gattastellina hanno una fissa con le scarpe le devo togliere subito ok penso che i gatti abbiano fame gatto max fa gli agguati a gattastellina e lei soffia ciao gattastellina ciao ciao sei venuta a salutarmi grazie grazie gattastellina adesso vedrete max che fa i dispetti a gattastellina e non la fa passare gattastellina stavolta sono stati bravi stavolta si è stato bravo non ho pranzato quindi faremo merenda anche se è parecchio tardi mangerò penso metà di questo panino con un po' di prosciutto crudo di solito prendo il parma o il san daniele che sono sempre i più buoni più dolci ma questa volta questo non mi sembrava male io sono un'appassionata del prosciutto crudo quindi ve l'ho raccontata sta cosa e poi bevo un po' di estate zero che vi dicevo in un altro video scoperto da poco ragazzi è stra buono c'è lo stesso identico sapore dell'estate classico e quindi quindi non voglio dire che stia sostituendo la coca cola zero perché non può succedere però a volte capita che bevo piuttosto questo che la coca cola zero lo so shocking nel frattempo mi guardo anche un video di jenna marbles il suo ultimo video uscito non me ne perdo uno questo è giving myself a tape facelift e combinazione anch'io ho comprato questi tape facelift sono tipo dei cerottini che si mettono e fanno quello che fanno i fili di trazione praticamente che fanno i medici estetici i chirurghi estetici dermatologi eccetera questi sono tipo dei cerottini che tu applichi praticamente sotto l'attaccatura dei capelli mi sa quindi non si dovrebbero vedere e poi ti tirano in qualche modo la pelle non ho ben capito li ho ordinati e mi sono arrivati ieri un altro ieri e vi farò presto il video in cui li testiamo assieme per curiosità per vedere veramente come sono e questa è la mia cenetta ragazzi sono non mi ricordo come si chiamano sono dei tipo dei delle crocchette di speck formaggio e patate la prima volta che le assaggio vediamo se sono buone non ho tantissima fame quindi almeno per adesso cenetta piccolina c'è qualcuno che vorrebbe assaggiarle si? si? tu sei fortunato che sei magro e stai dappertutto perché gli altri gatti non possono infilarsi così ovunque parlo così ragazzi perché il gatto max ha la S è così cioè non è colpa mia lui parla proprio così la gata il tuo amore è proibito la gata ma lei non ti vuole lei non ti vuole povero gatto max avete notato che è ingrassato un pochino? è ingrassato un pochino momento skin care ragazzi vi faccio vedere i prodotti che uso ultimamente mi sto trovando molto bene con l'acqua micellare di Garnier infatti ne ho preso un'altra che sta lassù per quando avrò finito questa che in realtà durano tantissimo perché di prodotto ce n'è molto eh sono 400 millilitri quindi quasi mezzo litro ed è super super delicata devo dire non mi arrossa la pelle neanche quando sfrega un pochino troppo infatti è per pelli sensibili e va bene sia per viso occhi e labbra mi piace moltissimo anche quella bifasica di Garnier devo dire la verità però è un pochino meno delicata rispetto a questa quindi di solito se c'è preferisco questa quella rosa appunto per pelli delicate poi dopo aver struccato il viso come sapete vado sempre a detergerlo nuovamente perché non basta andare a struccare con lo struccante bisogna sempre pulire la pelle anche dopo perché il primo step teoricamente serve per togliere il trucco il secondo step serve per detergere la pelle e uso questo cetaphil che ho da secoli da quando ho lavorato con questo brand perché appunto anche qui di prodotto ce n'era tantissimo anche questo è super super delicato e sono molto dispiaciuta di averlo quasi finito ma ne ho tantissimi altri detergenti viso da provare quindi finalmente potrò provarne altri e poi come al solito ultimo step stendo su tutto il viso questo prodotto che è l'Alpha H Liquid Gold con acido glicolico lo trovate da Sephora mi aiuta tantissimo a combattere i brufoli e a far sparire quelli che ho sul nascere l'importante è non spremerli prima altrimenti non funziona e brucia se invece non si vanno a toccare i brufoli allora aiuta davvero ma anche a prevenirli mi aiuta e l'acido glicolico è noto per queste proprietà quindi mi ci trovo molto molto bene la crema che uso per il contorno occhi al momento invece è di Diego Dalla Palma ed è la Gold Infusion che esiste sia per il viso che per il contorno occhi e la adoro ragazzi sarà tipo la quarta il quarto vasetto che uso di questo prodotto e anche questo come potete vedere sta finendo ma mi piace un sacco stiamo cercando un film decente su Amazon Prime Video come fai quando un film promette bene? stiamo guardando su Netflix se c'è qualcosa e questo film sembra essere carino non so ci ho visto da tre settimane è strano ti fissano tutti quanti come? sì effettivamente non mi sembra tanto interessante perlomeno non è stile che guardiamo noi di solito ok alla fine per sfinimento abbiamo deciso perché sono già le 11 e un quarto ma per sfinimento abbiamo deciso di guardare su Amazon Prime Video e alla fine siamo ritornati su Amazon Prime Video e guardiamo The Hoarder con Misha Barton che è abbastanza conosciuta quindi quando vediamo un attore conosciuto diciamo boh magari sarà bello abbiamo anche gli effetti sonori speciali stupido ok ragazzi questo era potenzialmente concorre per essere nella top 3 della classifica dei film più brutti che abbiamo mai visto veramente una trama inesistente praticamente non faceva nemmeno paura siamo rimasti più che altro allibiti dal fatto che Misha Barton abbia recitato in un film del genere quindi con questo vi lascio la buonanotte vi do la buonanotte se volete vederlo questo film guardatelo poi venite a scrivermi che cosa ne pensate se ne pensate come noi bacio ciao 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 Grazie a tutti.